Zion Cinepeer Weeble 3e, un nome alquanto tedioso da ricordare ma ve la faccio breve, è un gimbal molto interessante. Ciao Cipollino, benvenuto sul mio canale, sono Maurizio Albanese, filmmaker e content creator e nella mia esistenza ho una mission, cioè quella di farti innamorare appunto del lavoro più bello che c'è al mondo. Secondo me quello del filmmaker e del content creator, attraverso recensioni, esperienze, backstage ti porto con me dietro le quinte del mio lavoro, della mia vita quotidiana come filmmaker e spero di farti appunto innamorare di questo lavoro. Ma ogni tanto le ditte mi mandano cose da recensire, cioè ogni spesso ultimamente e da qualche tempo come sapete se mi seguite da un po' ho iniziato questa collaborazione con la Zion che devo dire la verità è sempre stata una ditta che mi ha davvero stupito per la qualità dei suoi prodotti. Sono un utente Zion dai primi gimbal e devo dire la verità che quando mi hanno proposto di provare in anteprima questo gimbal ero un pochettino così dubbioso perché arrivavo dall'esperienza quella là tipo Gretsch, no? Quella dei DJ, no? Quella non vi dico altro. E arrivando da quell'esperienza lì, avendo tante cose interessanti, la terza versione ho detto capiamo un attimino. Ovviamente quando mi è arrivato l'ho iniziato a testare, io ce l'ho già da più di un mese ed è venuto con me in tantissimi lavori, l'ho portato con me praticamente in tutti i matrimoni che ho fatto dall'inizio della stagione e ho avuto modo di capire tutti i veri pro e contro dell'utilizzo. Come sapete utilizzo Fujifilm e quindi ovviamente sarà molto specifica la mia esperienza d'uso sull'utilizzo con XH2S che è una delle camere che è assolutissimamente compatibile con questo Weebill. Attenzione, una compatibilità un pochettino sudata perché comunque all'inizio nei primi test abbiamo avuto difficoltà dal collegamento poi a un certo punto ha funzionato ma ancora oggi quando vado a premere il tasto di REC capita che ci metta un po' a capire che voglio andare in REC. Quindi diciamo ancora si può migliorare, sicuramente i firmware aiuteranno e la Zion è molto attenta in questo. Parliamo dell'esperienza d'uso e ce la cacciamo subito, è leggero, pesa circa un chilo, un chilo e cento e ha un payload di oltre 3 kg quindi comunque ci possiamo caricare veramente l'impossibile. Non è comodissimo con lenti enormi perché comunque è concepito per essere leggero però banalmente col 16-55mm f2.8 equivalente a 24-70mm se vogliamo paragonare a un full frame di qualsiasi brand lavora alla grandissima, è davvero un gimbal potente e ha un grande vantaggio che è quello di essere facilissimo da tarare e soprattutto ha dei motori molto potenti ha dei motori così potenti che se non siamo precisissimi nel sistema dei gimbal compensano in maniera silenziosissima grande pregio di Zion, i motori della Zion sono silenziosissimi e credetemi rispetto ai competitor questo fa veramente tutta la differenza del mondo e sono comunque dei motori molto potenti che ti danno sicuramente una grande affidabilità non ti trema in mano anche se non è bilanciato bene e riesce a lavorare con serenità e tranquillità appoggiandolo ovunque grazie al suo cavalletto che è molto molto stabile anche con camere molto impegnative ha una finitura in gomma che ti permette di avere un ottimo grip anche con le mani sudate o comunque con le mani col caldo ecco e probabilmente perché ora è nuova magari poi negli anni questa cosa potrebbe cambiare non sembra cedere la gomma sapete che la gomma col calore e l'umidità tende a sbriciolarsi questa invece sembra un'ottima rifinitura il grip è in plastica ma è un polimero molto resistente perché è molto 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 saldo sembra quasi la versione altra in carbonio come stabilità ed è leggerissimo veramente leggerissimo proprio perché è costruito in plastica ha questo meraviglioso joystick che ti permette di controllarlo appieno le modalità di accesso le modalità di classiche insomma POV, AL360, PFF, FF insomma tutte le classiche modalità di Gimbal non vi sto a dire tutto quello che c'è perché alla fine ragazzi lo cercate sul sito e avete tutte le informazioni stratecniche mi preme più darvi la mia personale esperienza d'uso e il mio parere su questo Gimbal ed è potente, bello, pratico ma veniamo un attimino ai contro ho trovato tre contro, il primo l'ho già accennato è la compatibilità che c'è con Fuji quantomeno parlo ma ancora c'è del lag nel rack e questa cosa un po' mi fa storcere il naso però sicuramente sono convinto che con il nuovo aggiornamento si sistemerà altra cosa importante da tenere in considerazione che a differenza dell'altro a cui sono abituato di cui parlavamo prima i braccietti, un attimo lo blocco se no ci va uscire pazzi i braccietti come vedete si muovono liberamente e si bloccano con l'ausilio di queste levette, di questi stop mi sarebbe piaciuto che fossero elettronici nel senso che questa cosa funzionasse in automatico e quando lo spegni si posiziona da solo in stato di parcheggio sostanzialmente e che si riattivi già calibrato questa sarebbe stata una feature che esiste in altri modelli non loro necessariamente ma anche di altri brand che è veramente comoda se si usa per esempio in un matrimonio perché non ti serve, lo posi spento e poi lo riprendi e lo riaccendi ed è già pronto insomma quello sarebbe stato un pochettino più apprezzato rispetto a dover aprire questo aprire questo, vedete che poi uno perde del tempo sostanzialmente aprire questo ed essere pronto a lavorare insomma è semplicemente una questione di approccio, di modus operandi per dirla alla latina però di base è una funzione che è onesta, ci sta insomma quindi vabbè la terza pecca è quella della batteria abituato a una batteria un po' più grossa avrei voluto lavorasse un po' di più l'intera giornata sempre acceso non la porti a casa è anche vero che un matrimonio tutto fatto col gimbal io non lo concepisco per cui per me questo non è un grosso problema ma è bene sapere che se vogliamo tenerlo acceso tutto il santo giorno a sera non arriva avrà bisogno di essere ricaricato almeno un'oretta e questo potrebbe essere una piccola pecca ma tutto sommato neanche così grande da dire oh mio dio come faccio raramente usiamo h24 un gimbal cioè da pazzi secondo me però ognuno ha il suo metodo quindi è giusto che io lo dica stabilizzare questo marchi ingegno infernale è semplicissimo prendiamo una fotocamera prendiamo la apriamo prendiamo la sua chiavetta esagonale in dotazione il suo cavetto stacchiamo liberando qua il plate e sbloccandolo stacchiamo appunto la piastra il plate vogliamo fare gli americani e la installiamo beceramente sotto la camera voilà liberiamo il primo braccetto e installiamo la camera la blocchiamo vedete che bucca da un lato noi lo mettiamo più indietro finché questa cosa non smette ora è troppo perfetto è il primo andato il secondo vedete già è bilanciato ora penzola un pochettino allentiamo vai messo un pochettino più indietro non bisogna essere troppo precisi perché comunque ce la fa ugualmente la camera liberiamo anche l'altro braccio lui si muove tranquillamente lo accendiamo ed è stabilizzato come potete vedere ok se vogliessimo essere persone migliori potremmo collegare il cavettino questa cosa fatela da spenta non fatela accesa io sono uno che se ne frega di base delle cose quindi colleghiamo l'usb c non so se si noterà accendiamo la camera e andiamo in rec come vedete sta registrando sta reccando ha una batteria che dura due ore e 46 minuti ed è a 2600 mAh si sto leggendo un po di informazioni tecniche giusto per darvi un'infarinatura in dotazione esce tutto quello che serve il cavetto la chiavetta il plate è ovviamente il treppiedino oltre al gimbal ma non esce il braccetto aggiuntivo di zion che si può acquistare a parte che garantisce sicuramente una migliore presa e comunque una maggiore comodità durante le lunghe sessioni anche se ripeto essendo leggero è facile a trasportare con la camera giusta quindi mediamente una qualsiasi camera con un 24-70 montato sopra ce la fai tranquillamente tutto il giorno a lavorare leggero compatibile con molte camere lo abbiamo visto ha tutte le funzioni qui la rotellina per fare l'oscillazione 360 incredibile questo per il riposizionamento abbiamo il joystecchino qua per mandare ai pazzi il montatore che dovrà fare poi il video abbiamo lo schermettino che ci dice tutte le modalità tutte le opzioni tutti i menu ai quali accediamo attraverso il bottoncino dei menu e la rondellina per spostarci abbiamo l'on abbiamo il rec e abbiamo sostanzialmente finito con l'informazione la ricarica usb c è questo ragazzi è il weble cinepure 3e della zion zion che ringrazio per avermelo mandato questo ovviamente non voleva essere una recensione super wow ah mi sono dimenticato di dire può lavorare anche in verticale quindi se siamo degli influencer tiktokers ramers possiamo tranquillamente usarlo per farci dei video belli e sentirci delle persone migliori ringrazio zion per avermelo inviato in anteprima ringrazio zion per avermi dato l'opportunità e la fiducia di testarlo e portare la mia esperienza d'uso su questo canale di questo bello gittito qui che ripeto ha un po' preso il posto cioè l'ho preso completamente in realtà dell'altro di cui parlavamo prima perché è leggero è più piccolo è sostanzialmente è perfetto per le mie esigenze 279 euro se volete proprio saperlo costa il link in descrizione ragazzi tanta roba tanta roba fatecelo un pensierino io ve lo lascio qui però è mio non ve lo regalo ciao cipollini iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale